La tigre del farweb che gioca a Minecraft, con qual volume che c'è, Duke 43.16 Voi che eravate in live, perché se non metti i pollici su ti banno la live, ecco, bravissimo Ragazzi a parte gli scherzi, questo è un progetto di tutti i giorni in live di un'oretta che poi vi racconteremo in un altro video apposito Oggi pensiamo alla techitti, alla techitti, Pepo che stai facendo? Allora io sto facendo bella passione e giardinaggio, carissimo Non ce l'ho fatto un cazzo, non ce l'ho fatto un cazzo proprio No è Pepo passione e giardinaggio Tu sei bravo, vieni con me, vieni Lascerò stare a quel maniaco, lascerò stare No vengo pure io, dai Lascerò stare a quel maniaco, lascerò stare No vengo pure io, oggi faccio Pepo passione e petrolio Quello è il maniaco, ti vuole rubare il pipino, eh Oh no no no, qua qua, qua qua Allora, abbiamo completato Aspetta, ma abbiamo fatto il video poi? Ragazzi non mi ricordo se abbiamo già fatto un video Facciamo finta non l'avessimo fatto, no? Ok Ragazzi, guardate cosa abbiamo costruito in un live Mamma mia, che bello Mamma mia Ragazzi, abbiamo fatto tutto questo in un live Senza la creative, mi raccomando perché tanto c'è il live registrato Per cui Esattamente Luca, vi ho visto la creative, io vi ho visto hashtag No, gli occhi nel culo perché non è vero Ok Ora qui andremo a raccogliere il petrolio avanzante dall'altra parte Ok Allora, quindi Allora, quindi Gli mettiamo la sincronizzazione 1 La 1 La 1 Gli mettiamo true E dovrebbe arrivare il petrolio E come vedete i tank si riempiono di petrolio Eccolo qua, eccolo qua Perfetto Ma adesso, aspetta Ora dobbiamo creare la pompa e andare a raccogliere le acque Ed è, andiamo a fare la pompa, dai Andiamo a fare le pompe Andiamo a raccogliere l'acqua Ebbè ragazzi È bruttissima Anche se comunque non mi dispiacerebbe A te farle? No, farmele fare Che schifo che fai Mamma mia Allora, facciamo la pompa Preghi 18 Siccome io l'ho fatta nei vecchi video Dovreste aver capito come si fa una pompa Certo Ma perché? Hai insegnato a farle Ora vediamo se riesci a farla Vai La faccio io Non fate i maliziotti Usate un po' di azia La faccio io La faccio io Ma mi prende per il culo Malizia basta Un buon dolorante La faccio io La faccio io Intanto ragazzi, come sempre Ringraziamo Gamehosting per la fruttura del server E vi ricordiamo che ci sono i saldi estivi In descrizione trovate tutti i link dovuti Dove andrete Dove troverete anche sconti su sconti E tanti sconti Per acquistare server Per acquistare server A bassissimo costo ragazzi Cioè un server vi viene a costare 2 euro Oh ragazzi Cioè i server I prezzi dei server di Gamehosting In questo periodo Sono talmente bassi Che io sono più alto di loro Mamma mia Eeeh L'ho cazzo Ma che stai facendo Chip? Chip che stai combinando Ok Ah ecco Chip sta lavorando Manca un piccone Chip Così Bravo Eeeh Bravo Chip Ora mi serve del ferro Mi devo fare un tank Si col ferro fai i tank Bravo No col vetro Ah ok Prova a guardare una crafting Ah mamma mia Guarda qua è spawnato Oh però l'ho fatta le pop Eeeh Come è stato Chip? Oh aspetta 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 No ragazzi che figata Ah gliela sta insegnando la bomba Ti stai calmo? Ti stai calmo? Ti stai calmati però Ti ho dato la legna Chip ho già fatto Adesso Ah basta che campiamo A posto No ma vanno Guarda fuori Boom Ok Allora sono così 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 E mi serve un'altra legna Tieni Lu Tieni Ah ce l'ho io la legna Eccola eccola Oh mi state ripeto di legna Ho fatto Ho finito Oh hai detto Mi serve la legna Peppo te l'ha mandata Lu Lu Oh Che vuoi Abbiamo una glowstone? Una che? No Una glowstone Una glowstone? Io la faccio imparare Si Questa cosa Non l'abbiamo fatta di glowstone Dovremmo averla Si Oh io l'ho fatta imparare Peppo Tutta sta roba non l'abbiamo fatta di glowstone Ah non impara No infatti Vabbè ragazzi Dove metto la pompa con l'acqua? Venite con me Allora No 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 Facciamo una pozza noi infinita Perché vediamo se funziona Perché non mi ricordo Se funziona Fa la qua Ho paura che mi dici Succhi tutto l'acqua del lago E quella che ha paura Vabbè lo riempiamo dai Cioè lo riempiamo No ti prego facciamola Io spero di no Cioè io spero seriamente che non Tutta la Ragazzi ha cominciato a lavorare sto coso Oh Ha cominciato a lavorare Probabilmente funziona Il pisellino lì è sceso Ma io non lo so Eh aspetta bisogna mettere i quattro redstone engine Li crafto io? No mi servono più che altro la Due redstone torch Ok Le faccio io Allora ragazzi vi farò vedere come si craftano le redstone torch Allora È complicatissimo Due stick Dai però non mi prendete per il culo No no sia mai io Allora Ecco ci manca il legno per fare gli stick Ecco Lei è un pirla Potrò dire Ecco mettiamo gli stick qua E le redstone sopra Che pirla Ho appena insegnato in un mio video Hai appena insegnato o hai appena imparato? È un po' diverso Amico tutti e due Ne ha chi ha più una lì e un'altra Allora una l'ho piazzata Adesso mi insegno pure a piazzarle signori Un'altra la piazziamo qui Che attiverà È il tasto sinistro e destro Peppo Beh 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 addirittura I cosciotti in basso e destro Sono la fame di mai Lucio ho il tank Lo mettiamo? Mettiamo sopra Aspetta Aspetta no che tank Ma sei scemo? No devi mettere Eh no devi mettere Eh sì Effettivamente però Cosa riempia adesso la pompa? Perfetto non va Eh devi mettere il tubo Eccola Entra eccola Eccola Ah no ok Sta succhiando Sta succhiando Allora Lucia Mettici direttamente il teleport Perché non va? Ma che palle Non riesco a salire Ah sì L'ho troppato io Ah no l'hai troppato io No non volevo fare casino nel lago Dai Vabbè poi si rompe vai Perché non si unisce raga? Ah vabbè sono pirla doppio io Se non lo faccio diventare waterproof Ah Bravissimo Comunque nel frattempo ragazzi guardate che bella piazzata Oh bello è 30 anni non gioco a sto pacchietto Mi ci fai ricordare? No Sono le modi più belle del mondo Toh te chi? Te l'uno Mettiamo la frequenza 2 Bello Ragazzi guardate che bello questo tubo No ma che bello Mettiamo la frequenza 2 Guardate Ok Andiamo in casa là Andiamo a dormire prima No ma è bello questo tubo ragazzi Andiamo a dormire E' molto bello Chi non viene a dormire lì sta con le mani Blam blam Li sta con le mani Ah io sto dormito Io sto dormito Voi però non avete notato una cosa nel mio Oh è l'anticip Non avete notato Dai Lime Ci è caduto in te Anch'io Creeper 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 No Che botta Un altro Per fare i pirli Dai che sparisce tutto Chest chest E' qua Questa qui è vuota Dai cacchio Dai 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 Tutta la roba Paraga dai Tutta la roba Aspetta Ragazzi Cesto Cesto Fate le chest Vai Bebo Fale il chest Butta tutto dentro Ok abbiamo preso tutto Ma porca troia Sì ma aspetta Dimmi che per favore L'abbiamo droppata Alla project table La project table Le chest le avete fatte? Eeeh Perfetto Ok ragazzi guardate No che sto prendendo Questo me lo risolve Allora la zaina è mio Questi sono miei Questi è mio Questi è mio Eeeh Questi è mio Death point Ah poi ci sono morto Verdi Ah A proposito ragazzi Ma l'avete messo Pallice in su Ragazzi Io direi se vedete la fine Anche oggi Mi ha dato un cazzo La fine Eh siamo morti No aspetta Stavamo per morire Però eh Allora Ah io ok Vedo il tubo Vedo il tubo Rieccoci Scusate il taglio ragazzi Ma Che dobbiamo fare Ah prendere l'acqua Ho messo il tubo Venite come Sì Esattamente Arrivo arrivo Ora andiamo Arrivando Eccoci qua Quattro reggi pieschi Perché sta uscendo acqua Da lui sta uscendo acqua Da qua Sta uscendo acqua da qua Da qua No Adesso te lo spiego Eeeh Perché ho fatto una pirlata Che era una pirlata La stessa frequenza Sì bravo Adesso lo togliamo La rimettiamo Guarda qua Allora Vabbè basta mettere acqua Vabbè minchiata dai Gli mettiamo la due Sì Ma sai che è bello sopra No 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 Sì mettilo sopra La due La due Eccola qua Ovviamente non esce niente Perfetto Ok eccolo qua Eccolo qua Eccola la nostra bellissima acqua Togliamo E lo rimettiamo un attimo Boom E arriverà il petrolio Perfetto Andiamo qua E anche qui Li mettiamo Li mettiamo il segnale 2 Giusto? Così si riempiono i tank d'acqua E abbiamo anche i tank d'acqua Il problema c'è perché T'ho detto Mi togli il tetti E tu Faccio io E noi i tetti Mi togli i tetti Faccio io Faccio io Aspetta Aspetta Come li volete levare i tetti Oh raga Era un blocco Che danni che sono Madonna mia Aspetta Dove stanno i blocchi Ripiazzateli E ce le tue Oh no Non c'ho niente Vi giuro Giù in giure Non c'ho niente Eh sì Ma non li ho torpati io E allora Torpati lui Grande 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 Brava Allora A posto di questa cobblestone Dovremmo mettere poi I prossimi macchinari Che serviranno Sì sì Prossimamente al cinema Che bella è una pompa In mezzo al lago Che bella Non ci troviamo più il lago Raga No no Ma secondo me Sì la roba infinita Non tocca niente Solamente petrolio e lava Credo non siano infiniti Anzi no Nella 1,2,5 Credo anche la lava Sia infinita Uh Sì ma nel leather credo No no Proprio la pozza infinita Di lava si può fare Se non erro Se non mi ricordo male Comunque abbiamo petrolio Abbiamo acqua Per i motori Ora dovremmo fare Gli Eh Refinity Refinity Allora Sì Refinity Refinity Allora ci servono Quattro diamanti Grazie amore Ma chi Ho i refinery Le cuffie Sì vabbè Lui dove cazzo Li prendiamo I diamanti Non ne abbiamo più Come non ne abbiamo più Quattro diamanti Aspetta Ne abbiamo uno solo Aspetta Ma Lucia Che sei lì Aspetta che lo faccio imparare Perché diamanti Non ne abbiamo più Ma stai a dire Oh uno ne abbiamo Oh uno ne abbiamo C'è fia Uno Uno Lu Ce ne avevamo uno solo Ok Ok Aspetta Oh mio dio Quanti diamanti Io ne ho altri due Vabbè Lucia ne ha altri due Io ne ho uno Da bruciare che abbiamo Scusami Allora Possiamo bruciare Abbiamo un tombistero Dove? No l'hai già bruciato E ci hai fatto Sei diamanti L'ultima volta Sugar cane Effettivamente è vero Sì vabbè Ma prima di arrivare A 8000 Con sugar cane Oh c'è un diamante qua Eh sì Daglielo a lui Sì effettivamente Io ho piantato Tutte queste canne Da zucchero Per bruciarle Vagono 32 Aspettate un attimo Allora Quattro ferri No raga Abbiamo perso Lo stacchio di ferro No 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 È nella cesta Nella cesta Quale cesta? Quale cesta? Qua Quella Quella grande Mamma mia Eh l'oro come lo faccio Adesso io ho un buccio ferro Eh Aspettate aspettate Arrivo io Arrivo io Presi Presi Un diamante mi serve Basta E se lo andiamo a rubare No 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 Non c'è bisogno Ragazzi Con le canne da zucchero Qui ne ho piantato Un bordello Bruciamo questo Va bene Che valgono 32 Cioè con Neanche uno stacco Ho fatto 2000 Boh perfetto Dai Boh Boh Minchia Abbiamo una farm Di canne da zucchero Infinite Ci abbiamo Guardate che roba Ciao pepo Sì però ripianta Dove le state bruciando Scusami Le canne da zucchero Ma dove le state bruciando Nelle 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 Bruciatoio Nel bruciatoio Nel bruciatoio Cioè le prendi là Siamo a 6000 Mi arriva ancora 2000 Dai Guarda 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 Attenta Lucchia 6000 6000 Dai 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 Ma ci metti 8 anni A bruciarle così Si deve fare una cosa veloce Appunto Io qua dentro Le ho bruciate Sinceramente Sì ma se le bruci là dentro Le vedi solo tu Appunto Beh sì infatti Volevo dirti Dai a Claystar Bruciarle tu Le ho fatto Ho fatto Ho fatto E preso Le hai preso il diamante Abbiamo la farm di punti Nice Ce l'abbiamo Eccolo qua Eccolo qua Erdiamantazzo Poi servono altri 3 tank E due torci di redstone E due torci di redstone Che ho insegnato in questo video A craftarle Allora redstone Redstone Allora poi Le ho già fatte io Le ho già fatte io Dai Sono qua dentro ragazzi Che hai fatto tu Così hai fatto Un cazzo ha fatto La stella è craft Scusami Scusami Credevo che Se li piazzavi Andavano Ok Vai Abbiamo il primo Refinery L'hai preso? Sì L'uno l'hai preso? Non l'hai preso Oh ce l'ho qua raga E questo cos'è? Mi è sparito Cacchio di bug Anche nello scorso video Ok adesso l'hai preso Andiamo Perfetto Andiamo a posizionarlo Questo è il primo Ce ne mancano altri due C'è un creeper dentro Chi è che non chiude le porte? Lu Ne ho uno anch'io In mano Di che cosa? Lu guardami Ma what the fuck Io cos'ho in mano? Non lo so Ce ne vado pure io Che cazzo sta succedendo? Mettilo a terra Che cazzo? Ne abbiamo due Nice Death bug Ma che cazzo? Perché? Io non ho visto nessun Hashtag Io non ho visto niente Ho visto Lu Che che craftava due di queste Io li ho craftati Non mi interessa Uno, uno, due No ragazzi Bellissimo Bellissimo Oddio Allora Ora qui Li porteremo il petrolio Che diventerà Fuel Che andrà in questi tank Abbiamo finito poi qua Mi ha finito il cavolo Ci servirà la corrente Però vedremo tutto Nel prossimo episodio Ragazzi Grazie per averci seguito Un bacione e un abbraccio Grazie per la condivisione Il commento Il pollice in su Tutto quello che volete Grazie per seguirci in live Grazie per averci detto Grazie Grazie Un bacione e un abbraccio Da Luke Grazie per averci seguito Ciao a tutti Ciao a tutti Ragazzi Il petrolio è pieno Comunque Ciao Ciao